ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sullele king tv quest'oggi ci andiamo ad aprire questo bel blister che contiene 25 figurine quindi 5 bustine ragazzi che come sapete è arrivato direttamente dalla vanini in questo blister in questi cinque blister che ho preso c'erano anche le card limited edition e di fifa 365 le adrenali apriamo a vedere cosa contiene ragazzi cosa riusciamo a trovare nel frattempo ragazzi lasciate like a questo video che non costa nulla iscriviti al canale se non siete iscritti allora vediamo cosa riusciamo a trovare ragazzi in questo fifa 365 2021 apriamo la prima bustina e troviamo matip e roberto anson del liverpool poi troviamo colconeros che è una bandiera ederson e gabriel del corinzia rudy e mascarell dello shark 04 e che zenzes bandierina allora club america caceres e sanchez gnabri la bandierina del barcellona saul dell'atletico e oh tevez e abilà del boca ma quanti anni ha tevez ah dell'84 ragazzi ha due anni meno di me praticamente ha io quest'anno ne faccio 39 lui ne ha 37 col millesimo diciamo così con il 2021 che io devo ancora compiere penso anche lui di maria del paris saint germain la copertina dell'album 2019 asenzio e bail suarez e messi bellissimo ragazzi che c'è una foto a messi finalmente abbiamo trovato messi suarez che non è più al barcellona purtroppo ma è all'atletico paillette e tauin del marsiglia diciamo anche questa questa collezione non aggiornata purtroppo quest'anno veramente abbiamo collezioni messi malissimo gabriel del corinzia poi abbiamo la formazione del boca in cui c'è anche tevez lo stemma del corinzia reyes e gonzalez del club america world cup 1994 stati uniti usa bello mi piace questa copertina ultimo pacchettozzo ragazzi abbiamo trovato messi non possiamo chiedere di meglio troviamo lo stemma del manchester united adesso poi andremo anche a vedere le figurine preferite di questo spacchettamento de bruny del manchester city los blancos la bandierina del real madrid griezmann e neymar ragazzi abbiamo trovato veramente di tutto griezmann e neymar ce lo teniamo poi abbiamo trovato messi eeeh gnabri cioè tanta roba tanta roba ragazzi tanta roba anche lui cioè è stato un bello spacchettamento ragazzi abbiamo trovato veramente di tutto poi per non parlare degli stemmi perché anche questo stemma del manchester united merita di essere menzionato in questo spacchettamento fra le figurine che abbiamo trovato migliori sicuramente di questo spacchettamento come al solito ragazzi scrivete sotto nei commenti la vostra figurina preferita io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti